Il comune di Viborati aderisce allo strar e in paese e nei comuni limitrofi torna la pace. La nuova decisione dell'amministrazione Brusco impedisce a privati di attivare grandi centri di accoglienza per richiedenti asilo. Fino a pochi giorni fa l'ente locale aveva lasciato intendere che avrebbe sostenuto la riconversione dell'ex hotel e terrazze di proprietà privata in una struttura per ospitare decine di profughi. Un progetto che è stato contestato non solo dagli imprenditori turistici e operatori commerciali del posto ma anche dai sindaci Giuseppe Del Medico di Sapri e Domenico Bianco di Torraca perché l'hotel in questione è alla periferia di Vibonati e dista solo pochi chilometri dai due comuni confinanti. Ieri pomeriggio si è tenuto l'incontro chiarificatore tra le parti interessate. Secondo quanto ha riferito l'assessore Attilio Angrisano, recentemente la Giunta ha licenziato una delibera con cui manifesta al prefetto la volontà di voler aderire allo SPRAR, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In virtù di tale decisione è in fase di redazione un progetto per l'accoglienza per un massimo di 10 migranti e dentro la settimana sarà presentato al prefetto. Aderendo allo SPRAR, ricorda Angrisano, il Comune potrà direttamente gestire l'accoglienza e l'integrazione dei migranti e tenere sotto controllo il flusso. E la scelta giusta, afferma Bianco, perché tutela anche il mio Comune che insieme a quello di Sapri avrebbe dovuto sopportare i disagi e i pericoli che avrebbe generato l'attivazione del grande centro per migranti nel vecchio hotel. Il piano di zona, detto il Sindaco di Sapri, sosterrà Vibonati nel suo progetto di accoglienza mettendo a disposizione le figure professionali necessarie per garantire ai migranti che ospiterà la giusta assistenza. La decisione di aderire allo SPRAR arriva dopo oltre due mesi di contestazioni da parte dei consiglieri di minoranza e degli operatori economici locali che da subito si sono posti ad un flusso indiscriminato di profughi. E qualcuno di loro ha sempre sostenuto che la migliore soluzione era proprio quella di aderire al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Ora il Comune deve individuare uno o due appartamenti privati dove ricevere i profughi perché l'ente locale non dispone di strutture adeguate.